A voi voglio augurare di trascorrere un Natale Sereno, se fosse mai possibile So che la crisi attanaglia ogni famiglia È davvero difficile Però diciamo cerchiamo di recuperare Almeno il giorno di Natale Quella serenità, quel calore della famiglia E chi non ce l'ha magari lo possa trovare in altre famiglie Credo che questo sia l'augurio più bello che io possa dare E di trascorrere un buon Capodanno In piazza noi ci saremo E spero ci sarete anche voi Sono certo che ci siete anche voi Per stappare insieme una bottiglia Per mandare via questo 2014 E aspettare il 2015 Nella speranza che possa essere un anno migliore per tutti Soprattutto per quelli che sono più in difficoltà Che sono senza tetto Che non hanno una famiglia Che non hanno una casa Che passeranno il Natale lontano dalle loro famiglie Penso per esempio ai militari all'estero Penso a chi non potrà rientrare nella sua terra E ad abbracciare i propri familiari Il mio pensiero va a quelle persone Che non riusciranno a trovare Intorno al focolare della famiglia Un momento di serenità Il mio primo pensiero va a loro E poi un augurio particolare a tutti i bimbi Che aspettano il Natale Aspettano Babbo Natale Che scende diciamo così E che porti i regali Se ce ne sarà qualcuno in meno Non fa niente L'importante è che qualche regalo arrivi waspettano Babbo Natale La tua regla è la sua La tua regla è la sua Grazie per la visione!